Per immaturità la terza è stato un crollo, è arrivata la gara giocata diciamo metà bene e metà male Insomma la costanza nell'atteggiamento è determinante e essenziale Longobardi sbaglia, arriva quindi la prima vittoria casalinga per Trapani di questa stagione 3 secondi al termine, elogi per tutti nelle fila di Trapani nell'ultima fase del match Tessitore va a tirare, non conta più niente, Trapani finisce in gloria, 76 a 66 Avendo concesso ti faccio rilevare a Matera appena 23 punti tra terzo e quarto quarto Danilo velocissimo, sono contento, speriamo che in queste vittorie si vederne ancora tante Ok, grazie a Sandro Passamino, grazie a Fabio D'Arcamella Grazie a Danilo Salto e appuntamento alle prossime gare del basket track Grazie a Danilo faccio Grazie a Danilo